mister allora vittoria per 2 a 0 partita con la possiamo definire solida compatta qualcosa da migliorare ma è da migliorare tanto perché comunque abbiamo fatto nel complesso abbiamo fatto una buona gara contro un avversario che che ha preparato bene la partita perché non ci lasciava tanti spazi potevamo sicuramente concretizzare di più perché abbiamo abbiamo avuto parecchie azioni dove dovevamo essere un po più credo un po più lucide negli ultimi 16 metri è anche vero che prendere tre traverse è un bel record però insomma io credo che la squadra abbia dimostrato anche una buona maturità soprattutto nella ripresa che non era facile e nel momento in cui le ragazze sono passati con i 5 a centro campo lì secondo me proprio girata e non abbiamo abbiamo più concesso nulla ripeto dobbiamo imparare a gestire di più la palla non non aver paura di tirar fuori le nostre qualità tecniche ma anzi noi abbiamo determinate caratteristiche quelle vanno utilizzate per tutta la durata della partita nota sicuramente positiva l'impermeabilità della difesa insomma non il padova non ha avuto occasioni chiare e limpide un paio di conclusioni che sono uscite fuori sostanzialmente me leddo non ha fatto una parata no sì da quel punto di vista lì siamo state brave ma perché un po la tendenza che abbiamo soprattutto anche con gli attaccanti andare a pressare alto le avversarie e quindi concediamo poco il fraseggio all'avversario oggi le tre dietro sono state brave comunque anche a leggere i vari le varie traiettorie i vari lanci che facevano quelli del ragazze del padova e non si sono fatte cogliere impreparate hanno disputato una buona gara abbiamo concesso secondo me qualche calcio di punizione di troppo negli ultimi 30 metri dovevamo essere brave a non avere troppa frenesia cioè secondo me imparare a usare la giusta velocità anche in fase difensiva qualche volta siamo state un po troppo frenetica quanto è importante da 1 a 10 essere partiti con una vittoria 15 a parte gli scarsi gli ho detto spesso la ragazza in settimana gli ho ripetuto che questa era una partita importante era una partita anche tra noi dello staff e io continuavo a ribadire che questa anche perché mi immaginavo questo da parte del padova e quindi era una squadra che per conto mio subirà poco e che quindi bisognerà essere brave contro di loro al ritorno ma per noi è stato importante partire bene per poter lavorare bene e anche per raccogliere un po' quanto loro stanno dando durante gli allenamenti e ora le ragazze a fine partita non hanno abitudine a parlare però ho voluto dirgli un paio di cose oltre che a fargli complimenti anche a crescere di più perché non ci possiamo permettere di giocare mai ai due all'ora noi dobbiamo essere una squadra che gioca ai 100-120 all'ora dobbiamo essere una squadra aggressiva operaia e che deve giocare sempre da leonessa questo è fondamentale per noi operaia e che deve giocare